Tupro di gruppo su una sedicenne in Romagna, in manette anche un diciottenne fanese. Corteo no green pass sotto casa di Matteo Ricci, in cinque andranno a processo. Arriva la prima neve della stagione a imbiancare le montagne pesaresi. Fibromialgia, una malattia invisibile di cui soffrono 30.000 marchigiani. VL a Livorno toccato il punto più basso, la società si trincera nel silenzio stampa. Buonasera a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV. Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione serale di Rossini News. Telegiornale del Canale 80 che in questa edizione di giovedì 14 novembre apriamo con la notizia di due arresti per stupro dopo una violenza di gruppo avvenuta ai danni di una ragazza di appena 16 anni. L'episodio accadde in Romagna lo scorso agosto e a finire in manette è stato anche un diciottenne di Fano. Un diciottenne fanese e un diciassettenne romagnolo sono stati arrestati dai carabinieri alle prime luci dell'alba. Entrambi sono indagati per presunta violenza di gruppo nei confronti di una sedicenne avvenuta a Rimini lo scorso 5 agosto. Le ordinanze di custodia cautelare sono state emesse dal Tribunale di Rimini e da quello dei minori di Bologna dopo un'attività investigativa che prese avvio dalla richiesta d'aiuto della ragazza che all'epoca dei fatti chiamò il 112 raccontando di essere stata abbandonata in strada dopo aver avuto rapporti sessuali non consenzienti con due giovani conosciuti su Instagram. I carabinieri hanno raccolto la testimonianza della ragazza confusa e disorientata trovando riscontri di presunta violenza anche dalla successiva visita in pronto soccorso. Avviata l'indagine acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona i carabinieri hanno individuato l'autovettura in cui fu fatta salire la minorenne. Identificati due soggetti l'ipotesi accusatoria è stata avvalorata dalla comparazione dei DNA effettuata successivamente dai carabinieri dei RIS di Parma che confermavano la connessione di tracce biologiche tra la vittima e i presunti colpevoli. Il 18enne fanese è ora recluso nel carcere di Rimini e il 17enne romagnolo in quello dei minori di Bologna. Quanto alla ragazza è emerso che avrebbe caricato online delle sue foto con una sorta di listino prezzi che ha suggerito agli inquirenti anche un'ipotesi di prostituzione minorile. Dalle indagini è emerso che la vittima è seguita già da un anno dai servizi sociali per una grave dipendenza da social network. Cinque persone sono state rinviate a giudizio per l'assedio sotto casa dell'allora sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, avvenuto il 28 luglio 2021. Si trattò di una manifestazione contro il Green Pass e l'allora restrizione anti-Covid. Una situazione che costrinse moglie e figlio di Ricci a chiudersi in casa davanti alle ripetute suonate di campanello, mentre l'allora sindaco era ospite di una trasmissione televisiva e aveva saputo in diretta ciò che stava avvenendo. Dagli allora 19 indagati si è scesi a sei, uno di questi è scelto in rito abbreviato, altri cinque andranno a processo il prossimo 14 gennaio. Ed ora ci occupiamo della politica regionale con la consigliera Michela Vitri che boccia il rendiconto dell'amministrazione Acquaroli per le ragioni che vi mostriamo in questo servizio. Nella discussione votazione sulla rendicontazione regionale 2023 non tutti hanno votato a favore, tra questi la consigliera della Regione Marche in quota PD, Michela Vitri, che ha sollevato due motivazioni in particolare, quella dei troppi gettonisti nella sanità e degli affidamenti Atim. Ho votato contrariamente alla rendicontazione del bilancio regionale principalmente per due motivi, le esternazionalizzazioni massicce nella sanità e gli affidi diretti, circa 8 milioni nel turismo. Per ciò che riguarda proprio i cosiddetti medici e infermieri gettonisti, il problema nel 2023 è esploso nella nostra Regione per una gestione fallimentare, tanto che si è passati da 4 milioni per gettonisti nel 2022 ad oltre 20 milioni nel 2023. E la Asta di Pesaro Orbino è stata una di quelle che ha speso di più in privati, tanto che nella nostra provincia sono stati spesi in gettonisti 6 milioni e 600 mila euro circa, che è una delle cifre più alte in tutte le marche. Di questi in particolare una gran parte è andata per i medici del pronto soccorso, circa 1 milione e 7 a Pesaro e circa 1 milione e 6 al pronto soccorso di Urbino. Ciò significa che molti medici o pensionati o privatisti si sono trovati a lavorare con i dipendenti pubblici guadagnando il triplo e non avendo le loro condizioni, quindi turni a volte massacranti, stipendi nettamente inferiori, causando anche una disparità di condizioni all'interno delle strutture sanitarie. Questo è uno dei motivi, ma le privatizzazioni non sono avvenute solo nella sanità, ma anche nel turismo. Tanto che il Presidente Acquaroli, con una legge regionale, il 13 dicembre 2021, ha voluto addirittura creare un nuovo ente, l'Agenzia Turismo Internazionalizzazione delle Marche, l'ATIM, e abbiamo scoperto che da allora dovevano lavorarci 12 persone, invece in quegli uffici presi in affitto nella sede della Camera di Commercio di Ancona non ha mai lavorato nessuno. E soprattutto da allora ad oggi sono stati fatti solo affidi diretti. Alcuni destano parecchie perplessità e quindi stiamo chiedendo al Presidente Acquaroli ripetutamente di chiarire come sono avvenuti questi affidi diretti. In merito ai gettonisti si solleva quindi la questione del perché quei fondi non siano stati destinati alle assunzioni anziché essere stanziati a privati del settore. Questo è quello che ha detto esattamente la Corte dei Conti nella sua relazione a fine settembre. tanto che avanza delle proposte alla Giunta Acquaroli perché il problema non è solo la carenza di medici non sono tutti andati in pensione ma anzi tra quelli in prepensionamento quelli scappati a lavorare in regioni vicine o all'estero c'è una bella differenza e la Corte dei Conti chiede alla Regione di ridurre la spesa nelle esternazionalizzazioni nelle cooperative quindi nei privati ma aumentare invece gli incentivi ovvero i contributi per medici e infermieri che per esempio possono avere un compenso aggiuntivo per orari e turni straordinari una proposta importante arriva addirittura anche dagli stessi infermieri che chiedono ad esempio e io l'ho fatto presente in aula al Presidente Acquaroli di defiscalizzare i turni notturni sarebbe già anche questo un piccolo incentivo nelle Marche non si sta facendo nulla per trattenere il personale sanitario che sta scappando ovunque pur di non lavorare qui ormai oggi 14 di novembre ha fatto Capolino la prima nevicata della stagione sulle montagne di Catria Nerone e Carpegna una spolverata di coltre bianca nella notte che arriva con una decina di giorni d'anticipo rispetto a quanto accaduto un anno fa ed ora ci occupiamo di una malattia invisibile spesso non riconosciuta come la fibromialgia una patologia che avrà però un suo focus d'attenzione a Pesaro in un convegno che si terrà sabato 16 novembre la chiamano malattia invisibile eppure il suo dolore è tangibile costante e invalidante la fibromialgia colpisce oggi 30.000 persone nelle Marche e circa 2 milioni di pazienti in Italia ma le cifre sono verosimilmente più alte considerando che si tratta di una patologia difficilmente riconoscibile e diagnosticabile dalla sua costituzione l'associazione peserese Leali di Hauser si batte per far luce su chi soffre di fibromialgia e in tal senso assieme all'AST Pesaro Urbino ha deciso di organizzare un convegno dedicato il 16 novembre a partire dalle 9 nel presidio sanitario di Galantana il convegno si intitola fibromialgia in famiglia per sottolineare l'impatto complesso che la patologia ha tanto sul fibromialgico quanto sui suoi affetti e relazioni è doveroso cercare di capire cosa si può fare per comunicare anche quelle che sono le nostre esigenze da fibromialgici ma dare la possibilità soprattutto al familiare di esternare la sua perplessità la sua difficoltà nel dialogare con lo stesso fibromialgico assieme a Roberta Baldi interverranno sul tema esperti come i dottori Samuele Bedette e Elisabetta Esposto oltre al contributo fondamentale di figure come quella del reumatologo Anna Maria Di Carlo e dello psicoterapeuta Luca Rizzi perché chi ha la fibromialgia e chi ha in casa qualcuno con la fibromialgia sono due persone che debbono elaborare un lutto vediamola un po' così tutte e due hanno perso qualcosa e tutte e due devono recuperare qualcosa in questo caso sicuramente la comunicazione che a un certo punto finisce perché perché si è esasperati si è esasperati dal dolore dalle difficoltà e quindi la possibilità di poter parlare con esperti sicuramente aiuterà a comprendere la patologia e aiuterà a capire al familiare come interagire col paziente fibromialgico giornata giornata importante quella di oggi per la città di Fano con la consegna ufficiale delle chiavi dell'area dell'ex Vittorio Colonna al comune da parte di Invimit un passo decisivo nel processo di rigenerazione urbana di un'area che per anni è stata simbolo di degrado e criminalità sono in corso i lavori per la realizzazione di nuovi parcheggi che saranno completati entro dicembre restituendo alla città uno spazio a lungo trascurato e trasformandolo in una risorsa strategica per il centro storico il nuovo parcheggio sarà infatti a pochi passi dal cuore della città e sarà gratuito per la prima ora di sosta nelle comune di Gabice invece questa mattina è stata illustrata l'iniziativa che vedrà il prossimo 22 novembre in contiguità con la giornata nazionale degli alberi che ricorre il 21 la piantumazione di 250 alberi realizzata grazie alla collaborazione tra il comune e il comando provinciale della guardia di finanza l'area boschiva è stata individuata in prossimità dell'istituto comprensivo Lanfranco e la piantumazione si inserisce nelle celebrazioni del 250esimo anniversario della fondazione della guardia di finanza festa dell'arbero è cominciata invece in anticipo a Santa Maria dell'Arzilla dove quasi 109 piante e arbusti per un valore di 3000 euro sono stati piantumati nello spazio verde del foro boario dell'Arzilla grazie all'accordo di collaborazione tra il comune e il circolo il ragusello di legambiente siglato nell'ambito della campagna nazionale festa dell'albero di legambiente ed ora parliamo di spettacoli perché domani venerdì 15 novembre si apre il sipario sulla stagione capitale di danza del teatro Rossini a Pesaro nata dalla collaborazione tra comune e Amat l'inaugurazione affidata alla numerosa compagnia Zappa la Danza che porterà in scena 14 straordinari danzatori che interpretano trilogia dell'estasi uno spettacolo che muove a partire da tre composizioni classiche novecentesche ovvero prelude alla premidì d'un fond di Debussy il lebolero di Ravelle e le sacre du printon di Stravinsky ed ora andiamo invece a conoscere quella che è la prossima capitale della cultura per una settimana nelle progetto di Pesaro 20-24 fra i 50 comuni della provincia il lungo viaggio di 50 per 50 capitale al quadrato di Pesaro 20-24 apre le porte al fascino del piccolo comune di Pietrarubbia che sarà capitale per una settimana dal 18 al 26 novembre proponendo una ricca offerta fra arte musica storia e scoperta del territorio dal titolo Le Urme del Contemporaneo Pietrarubbia è legata in modo particolare al maestro Arnaldo Pomodoro che ha contribuito alla rinascita del Borgo ma soprattutto è sempre stato molto legato al nostro territorio ed ha lasciato nel nostro comune diverse sue opere molto importanti a partire dall'Obelisco di Cleopatra che si trova all'inizio del paese al bellissimo sole che si trova nella chiesa di San Silvestro sempre all'interno del Borgo di Pietrarubbia e a tutte le opere che Pomodoro ci ha lasciato e sono raccolte in un'area del nostro museo di arte contemporanea quindi sulle orme del contemporaneo spero il museo di Pietrarubbia di arte contemporanea diventi un museo itinerante ma un museo anche aperto a tutti i giovani i giovani artisti che vogliono mettere in mostra le proprie opere focus sul museo ma anche riflettori puntati sul castello il castello di Pietrarubbia risale al XIII secolo e da lì cominciarono abbiamo le prime notizie riguardo il castello di Pietrarubbia poi ci fu nei secoli successivi il XIV secolo in occasione degli scontri tra i guelfi e i ghibellini il passaggio del castello di Pietrarubbia direttamente sotto il ducato di Urbino Pietrarubbia era famosa anche per l'estrazione del metallo da qui il nome Pietrarubbia perché le pietre del territorio sono ricche di ferro infatti gli artigiani dell'epoca lavoravano il ferro ed erano degli abili artigiani i manufatti venivano esportati in tutta l'Italia centrale Pietrarubbia e il territorio sono stati già protagonisti e cernieri di altri progetti in particolar modo a partire dal contemporaneo anche nelle settimane dei comuni vicini e anche nel racconto della zona anche negli appuntamenti costitutivi del 50x50 fatto a Carpegna andare in questa direzione partendo in particolar modo dalla storia del TAM dal laboratorio delle pietre dure segnato da Pomodoro da Gentiletti da lo stesso Loriano Sguanci qui sarà dedicata una delle iniziative in apertura e anche dall'artista Paolo Soro che diciamo sia come artista che esporrà ma anche come uno degli artisti che in rete stanno portando avanti un lavoro importante di ripartenza proprio a partire dal a partire dal contemporaneo non mancherà la musica naturalmente non mancherà neanche l'aspetto artistico legato a diverse altre forme espressive sicuramente un'attenzione visto il luogo e la bellezza del paesaggio anche al territorio fino anche alle presentazioni attraverso il CosaSedop di luoghi come il bar del paese che diventa però anche in questo caso punto di informazioni per quello che accade nella capitale e nel comune e nel territorio in generale e anche per quello che è la promozione dei prodotti tipici a partire dalle dopo ma non solo del territorio e non sembra esserci fine al peggio in questa stagione di Serie A2 della VL che ieri a Livorno è incappata in un crollo senza nessun attenuante nessuna idea nessun segno di lotta di cuore di essere squadra nel turno infrasettimanale di Livorno la VL tocca uno dei punti più bassi della sua storia attraverso una partita persa sul nascere alla Sirena il punteggio che sentenza l'ottava sconfitta in 11 partite dirà 104-76 dentro un match che già all'intervallo dipingeva un eloquente e imbarazzante 60-28 il tutto al cospetto di una libertas Livorno che fino a mercoledì pomeriggio aveva gli stessi punti in classifica dei pesaresi ci si aspettava la ripartenza dopo due partite con Udine e Rimini che seppur negative nel punteggio avevano lasciato intravedere un lumicino di speranza speranze spazzate via da una trasferta toscana in cui il pubblico pesarese presente lascia l'impianto ben prima della fine del match e quello a casa grida la vergogna attraverso i social la società per tutta risposta si trincera dietro un silenzio stampa che riguarda tanto l'area tecnica della dirigenziale una situazione avvilente e surreale con la squadra relegata nei bassi fondi della Serie 2 viaggiando ad una media da retrocessione domenica si torna alla Vitrifigo Arena arriva a 100 e sulla carta sarebbe una partita alla portata a patto di vedere qualcosa di estremamente diverso da ciò che ha caratterizzato i primi due disgraziati mesi di campionato Sport che continua domani sera con gli impegni di venerdì della Vispesaro nel calcio e dell'Ital Service nel calcio a 5 la Vis dopo la sconfitta a testa alta con la Pianese riassapora dopo 23 anni d'assenza il derby con l'Ascoli si giocherà alle 20.30 al Benelli con la Vis falcidiata dalle assenze di Pucciarelli per infortunio e di occorre Coppola per squalifica e torna in campo anche l'Ital Service Pesaro di calcio a 5 sempre domani sempre a Pesaro sempre alle 20.30 domani infatti al Palamegabox arriva la vice capolista Fendi Eboli e Pesaro proverà a dare corpo al primo punto stagionale ottenuto martedì contro Viterbo e dopo lo sport concludiamo il nostro notiziario annunciandovi l'apertura di una nuova attività a Pesaro si amplia l'offerta del mercato dell'auto a Pesaro giovedì 28 novembre inaugura infatti il nuovo Cupra Garage un investimento del gruppo Domina che allarga ha la sua rete di concessionari nelle Marche arrivando all'estremità settentrionale della regione e riqualificando a Pesaro anche un'area di smessa di strada del Montefeltro aspettando il taglio del nastro ufficiale Cupra Garage è già aperto al pubblico il nostro gruppo che da oltre 40 anni è concessionario di tutti i brand del gruppo Volkswagen oggi con Cupra Garage che è il nuovo brand del gruppo ha deciso di investire su Pesaro con questa nuova struttura per il territorio noi abbiamo 10 sedi nella regione Marche che Pesaro era la parte alta della regione che volevamo coprire per potenziare l'offerta a tutti i nostri clienti sia un centro usato certificato con tutte le vetture del gruppo e anche oltre il servizio di noleggio a breve e a lungo termine e i brand nuovo Cupra e Seat in primis che rappresentano il nostro Cupra Garage diciamo la massima espressione del design e dell'innovazione Pesaro è una zona strategica capitale della cultura quindi ci fa un onore particolare essere qui oggi e vogliamo invitare tutti i pesaresi all'inaugurazione della nuova struttura che è già aperta quindi vi invitiamo a visitarla e il 28 di novembre giovedì sera vi aspettiamo tutti per il primo evento di inaugurazione del Cupra Garage domina di Pesaro si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo alcuni appuntamenti a cominciare dalle 20 subito dopo il Lettg andremo a vedere la magia del Natale che ogni anno arriva puntuale al Garden Center Florio di Pesaro a seguire il giovedì sera è la serata dedicata al basket faremo il focus sulla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro nel nostro format insieme a Canestro tanti temi tanti interrogativi dopo la disastrosa sconfitta con Livorno di ieri che saranno analizzati da Elisabetta Ferri e Alessio Zaffini con ospiti della puntata l'assistant GM della Carpegna Prosciutto Basket Nicola Egidio e il giornalista Raffaele Vitali oltre naturalmente alla possibilità di interazione in diretta di voi tifosi al numero Whatsapp 370-366-7210 e dopo insieme a Canestro potrete anche rivedere la indifferita l'intera partita della VL che è andata in scena ieri a Livorno l'appuntamento è alle 22 e anche sabato alle 15 e poi naturalmente vi ricordo l'appuntamento con l'informazione mattutina di Rossini TV anche domani ci sarà Buongiorno Rossini a tenervi in compagnia con la rassegna stampa dei quotidiani locali in diretta a partire dalle 7.20 ed è tutto invece per questa sera vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi